Nella società dell'immagine in cui viviamo capita a tutti di fare a botte con quella che è la nostra immagine. Ora in questo momento state osservando una ripresa video in cui viene mostrata una persona che raramente si piace in video e quasi mai si piace in foto. Eppure sono qui oggi a fare un contenuto davanti a una videocamera per raccontarvi come possiamo gestire uno shooting quando sappiamo benissimo che dall'altra parte c'è una persona che non si piace e che non ha magari voglia di fare fotografie. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare e stasera vi porto un contenuto un po' delicato nel senso che più persone mi hanno chiesto come faccio a gestire uno shooting quando dall'altra parte dell'obiettivo mi trovo una persona o più persone che non hanno fondamentalmente nessuna voglia di posare. È una cosa che succede più di frequente di quanto pensiamo e andremo a vedere perché e in quali casi. Però prima di cominciare io vi ricordo di iscrivervi al canale perché se vi piacciono contenuti come questo ne arriveranno molti altri attivate anche la campanella così non vi perdete le notifiche lasciate un like a questo video le persone che non si piacciono in foto vi ringrazieranno. Molto bene ma partiamo dall'inizio innanzitutto perché una persona che non si piace dovrebbe entrare in una ripresa video o farsi fotografare? Beh è la cosa più semplice dell'universo guardate me vi ho appena confessato che ho anch'io come tutti d'altronde anch'io dei problemi con la mia immagine che comunque riesco a gestire comunque non sono più un ragazzino quindi diciamo che avendo la mia età ho imparato a convivere col fatto che non sono esattamente come mi sarei disegnato io se ne avessi avuto la possibilità ma ho imparato ad accettare quello che ho e a farmelo andare bene. Questo è il primo passo verso cui dobbiamo condurre chiunque si trovi sull'altro lato della videocamera o della fotocamera e abbia bisogno di farsi realizzare uno shooting ma abbia dei problemi con la propria immagine perché ovviamente la prima cosa è l'accettazione ma cerchiamo di capire come mai una persona che non ha voglia di posare si trova sul lato sbagliato della fotocamera o videocamera prendiamo il caso mio per esempio personal branding chiamiamolo come vogliamo il punto è che io ho necessità o magari ho voglia perché comunque non mi dispiace trovarmi da questo lato per parlare con voi però mi succede di trovarmi sul lato sbagliato della fotocamera o videocamera perché comunque devo realizzare dei contenuti sapete quante volte mi è capitato di avere a che fare con responsabili di aziende vi faccio un caso proprio nello specifico un'azienda senza dirvi quale gestione familiare c'era la figlia che aveva grosso modo la mia età che doveva cominciare a prendere le redini di questa azienda e lo stava facendo devo dire anche bene c'era solo un piccolo problema tutta quanta la campagna doveva essere incentrata su di lei sulla sua immagine immaginatevi una persona molto timida molto controversa la cui reazione di fronte a un obiettivo era letteralmente no no non mi fotografare tanto io vengo male capite bene che non sono le premesse migliori per andare a realizzare uno shooting perché con una premessa di questo tipo con una persona che palesemente non ha voglia di fare quella roba lì che te lo dice proprio che ti dice ma dobbiamo proprio fare questa cosa e tu la guardi e le dici guarda la dobbiamo fare sì nel senso che io ho preso accordi con i tuoi genitori avevo detto che facevamo lo shooting oggi cioè lo sapevi sì sì lo sapevo ma io non voglio possiamo non farlo guarda per me possiamo anche non farlo glielo dici tu ai tuoi che mi pagano lo stesso cioè in qualche maniera si cerca di convincerla però lì in quella situazione io mi sono fatto una pensata mi sono detto qui è tardi è già troppo tardi perché bisogna fare un lavoro a monte ora possono esserci svariati i motivi per cui una persona non si piace per carità talvolta è anche legittimo nel senso che con l'ideale di bellezza che abbiamo di fronte è più che legittimo che uno si guardi allo specchio e dica io non mi piaccio lecito triste ma lecito purtroppo questa cosa succede nel momento in cui arriviamo allo shooting con una persona che arriva allo shooting pienamente consapevole di non piacersi se è una persona che ha delle fragilità intrinse che è molto facile che si risolva in uno shooting fallimentare per cui io da quella volta riduce da quell'esperienza ho deciso di fare un lavoro con i miei clienti prima di arrivare allo shooting e questo lavoro verte proprio sulla consapevolezza in buona sostanza la prendo un po larga e gli faccio presente che appunto l'ideale di bellezza che abbiamo davanti ai nostri occhi tutti i giorni è un ideale un po bacato la prima cosa da tenere a mente quando ci si confronta con l'ideale di bellezza che abbiamo di fronte ai nostri occhi è ricordiamoci ricordiamoci sempre che non è facile essere chiara ferragni ricordiamoci sempre che non è facile essere cito lei perché la conosciamo tutti ma non è facile essere l'influencer di turno perché perché l'influencer di turno fa quello l'influencer di turno ha tutta la giornata da dedicare al fatto che in quella singola foto deve venire bene noi non ce l'abbiamo quindi questo è il punto di partenza per far capire al cliente perché non si vede in foto e nemmeno nella vita per carità ma perché non si vede nelle mie foto come vorrebbe vedersi non si vede come vorrebbe vedersi perché non è come vorrebbe vedersi questo ovviamente bisogna diglielo con molto tatto io adesso l'ho detta in maniera un po brutale però il concetto è chiara ferragni prima di fare uno shooting si fa tre ore e mezzo di parrucchiere due ore e mezzo quattro ore di trucco non lo so non lo so quanto ci metta ma ci mette secondo me ci mette tanto cioè metà della sua giornata secondo me la passa a prepararsi per uno shooting oppure magari ha una routine così consolidata che ci mette anche poco però ci ha messo anni ad arrivare fin lì il punto è proprio questo la preparazione quindi da un lato la consapevolezza consapevolezza di dire io non sono quella persona lì io stesso mi guardo lo specchio e dico ok non sono Brad Pitt probabilmente non sarò mai Brad Pitt stiamo a vedere però trovo qualcosa che mi vada bene in me stesso e questo lo trovo con la consapevolezza consapevolezza che parte dal dire io non sono Brad Pitt quindi non sono quella roba lì sono un'altra cosa mi guardo allo specchio trovo qualcosa che mi vada bene in me stesso e da lì comincio a lavorare a lavorare però nel senso che io non posso io modello persona che deve essere ritratta non posso presentarmi allo shooting pensando fotografo fai tu la magia quello che mi dicono sempre soprattutto donne ma anche uomini che mi dicono cioè vi dico le cose che vanno per la maggiore uomini allora dovresti rimettermi i capelli che ho perso toglimi la barba che non ho fatto in tempo a farmela toglimi le orecchie a sventola levami la pancia voglio perdere 20 chili vorrei essere le spalle un po più grosse vorrei sembrare 20 anni più giovane e il riflesso dagli occhiali queste sono più o meno le cose che mi chiedono gli uomini le donne invece mi dicono anche lì mi puoi rinfoltire un po i capelli mi togli la peluria dalla faccia o dal braccio che si vede un pochettino toglimi 20 chili toglimi 20 anni queste sono le cose che mi dicono normalmente ora quando mi capita uno shooting fra capo e collo che dici vabbè dobbiamo fare questa cosa la prendi anche un po come deve venire ma se ho tempo di pianificare col cliente io cerco proprio di fare un lavoro per dire al cliente allora quali sono i tuoi punti di forza fammi capire ci parlo in maniera tale che sia il cliente o la cliente stessa a dirmi voglio sentirmelo dire io non mi piaccio perché mi sento sovrappeso perché ho perché sono perché ho la calvizie perché ho quello che è voglio sentirmelo dire voglio sentirmelo dire perché così posso lavorarci su posso dire ok non ti piaci perché ti senti sovrappeso ci mettiamo in una posa in un certo modo ti faccio mettere i piedi in un certo modo e la figura in un certo modo in maniera tale che andiamo a privilegiare i tuoi punti di forza rispetto ai tuoi punti deboli questo è un lavoro però che io dico al cliente alla cliente questo è un lavoro che ti prendi cinque minuti la sera per tre quattro giorni prima dello shooting e ti metti davanti allo specchio in maniera tale da trovare una posa in cui dici ok mi faccio schifo però in questa posa mi faccio un po meno schifo e ricordati sempre una cosa l'influencer di turno ci passa tre ore al giorno a fare sto lavoro forse di più forse di meno poi vabbè dopo un po influencer con carriera avviata magari non lo fa più ormai ha capito quali sono i suoi profili giusti e come si deve mettere per ottenere il risultato che vuole ottenere chi non è un influencer lo deve fare questo lavoro lo deve fare da zero perché non è capace non è capace perché non lo fa non sono capace neanch'io io non è che mi sommettere vedete io mi sbatto qui bam quadrato così questo è non mi interessa neanche così tanto tanto stabilito assodato che non siamo che non sono brett pitt per me ormai il discorso può andare a morire questo è e questo vi tenete e quindi per me va bene così nel caso di una persona che palesemente si sente a disagio di fronte alla camera secondo me la prima cosa è puntare sulla sua consapevolezza primo di non essere brett pitt o di non essere che transita jones e quindi ok il materiale che abbiamo a disposizione è questo come faccio a farmi piacere il più possibile questo materiale mi metto in una posizione che mi privilegi mi scelgo una luce che mi privilegi aver fatto questo lavoro aver fatto fare al cliente questo lavoro è a parer mio l'unico modo per arrivare allo shooting e avere un barlume di speranza che il o la cliente a fine shooting non ci scarti tutte le immagini dicendo che non si piace perché il lavoro deve farlo la persona cioè è la persona che deve trovare qualcosa di se stessa che gli piaccia poi quando siamo in studio io posso metterci tutta la conoscenza la competenza di questo mondo per dare consigli metti il piede più indietro spostati un pochino di lato facciamo un tre quarti metti la mano sul fianco fammi vedere lo spazio negativo apri i gomiti tutte quelle cose lì su quello ci possiamo lavorare ma la base di partenza è che il cliente deve arrivare con la consapevolezza di non essere perfetto e quindi senza arrivare dicendomi ah però poi con photoshop fai tu la magia no io non faccio nessuna magia con photoshop sei tu che ti devi cominciare a piacere sei tu che devi trovare qualcosa di buono in te stesso in te stessa perché se non lo fai prima mi dirai levami vent'anni rimettimi i capelli che ho perso toglimi il doppio mento che ho guadagnato toglimi la pancia stirami le pieghe della camicia cioè che cosa faccio io prendo la foto di un altro prendo la foto di brad pitt metto la foto di brad pitt capite che non funziona questo discorso adesso a voi lo sto facendo tagliato con l'accetta ma bisogna farlo anche ai clienti in maniera tale da fargli capire guarda se tu arrivi che non ti piaci avrai delle foto in cui non ti piaci se invece facciamo un lavoro preventivo e tu arrivi con la consapevolezza di non piacerti ma di aver trovato l'angolazione che ti fa meno schifo di te stesso uscirai da quello shooting dicendo vabbè di tutte le angolazioni della mia brutta faccia che non mi piace abbiamo quantomeno fatto quelle che mi fanno meno schifo in assoluto per cui di sicuro non troverò delle altre mie foto così carine da nessun'altra parte perché ci abbiamo pensato perché ci ho pensato perché il cliente ci ha pensato perché il cliente che ci deve pensare altrimenti quello che succede è che il cliente dice allora ne facciamo un po così un po così un po così un po così quelle con il mento alzato poi sono terribili e poi che cosa succede le sfoglia e non me ne piace nessuna dovevamo trovare un'altra cosa dovevamo trovarla prima però perché io non posso fare le foto mandartele e scoprirlo dopo che cosa ti piaceva bisogna saperlo prima quindi questo è molto importante altra cosa molto importante raccomando anche ai clienti di fare un lavoro su loro stessi nel senso che abbiamo lo shooting magari il giorno 15 del mese oggi è il giorno 2 se ti senti sovrappeso se hai qualcosa di te che non ti piace lavoraci ai 15 giorni ti senti gonfio perché hai mangiato pesante ti senti che cavolo ne so hai un taglio di capelli che non ti piace ai capelli ricci che sparano da tutte le parti lavoraci fatti una piega vai in palestra fatti un po di spalle fai qualcosa per arrivare il giorno dello shooting dicendo beh ci ho lavorato tanto un po di consapevolezza del lavoro che ho fatto c'è la preparazione è molto importante mi capita molto spesso anche per voi immaginatevi il contesto io vado magari presso una grossa azienda magari una multinazionale con i miei backdrop e le mie lucette per fare un servizio fotografico corporate quindi ritratti le foto tessere bruttissime tipo proprio la foto tessera della tessera della tm per tutti gli amministratori delegati gli impiegati e tutti quelli che lavorano in questa grossa azienda quindi è una cosa un po spiccia un po sbrigativa io faccio un set con delle luci belle che decidiamo insieme con con i piani alti della direzione e poi foto uguali per tutti quanti ovviamente tutte queste persone non sono state briefate da me se siamo fortunati io ho parlato con un responsabile che li ha briefati secondo quello che io ho detto e quindi ha detto a ciascuno mi raccomando arrivate in un certo modo fate questo questo e quest'altro se questo non è stato possibile io arrivo e fotografo il primo e mi dice senti mille vi venti chili mi rimetti capene va bene facciamo le foto al primo arriva la seconda mi dice guarda io oggi sono gonfissima è proprio una settimana no poi io prendo il cortisone mi puoi togliere i tre doppimenti e toglimi vent'anni e magari riesci anche a togliermi i peli dalle braccia ok va bene arriva quello dopo ancora e dice senti ho gli occhiali fondo di bottiglia riesci a farmi gli occhi più piccoli perché così sembro il ragionier filini e poi fammi più alto anche perché io sono alto un metro e venti e sono diverso da tutti gli altri capite che se sono 500 persone e questo è il mood e tu lo scopri quel giorno lì che questo è il mood tu magari avevi preventivato di fare la cifra x a quell'azienda nel momento in cui vieni a scoprire che ogni singola persona avrà bisogno di due ore di foto ritocco il tuo preventivo è sbagliato e quindi anche lì bisogna fare un lavoro preventivo io mi sono trovato in quella situazione bruttissima ve la sconsiglio veramente e essendomi trovato in quella situazione da quel momento cerco sempre di briefare il mio contatto presso queste aziende affinché dica a tutti ma veramente a tutti ragazzi fate qualcosa prima di venire allo shooting cioè non venite con la barba fuori posto non venite con i capelli tutti sfatti perché poi non si sistema niente in photoshop io dico proprio diglielo che il preventivo che ti ho fatto non prevede che io ritocchi per tre ore 500 foto una per una se volete facciamo un altro preventivo perché assolutamente cioè non è che non voglio lavorare se il lavoro è quello però il preventivo è diverso e però diteglielo alle persone vieni preparato vieni con la camicia stirata vieni messo giù un po bene perché il semplice fatto di essersi preparati la mattina questo vale invistintamente per uomini e per donne il semplice fatto di essersi preparati la mattina con la consapevolezza che si faceva è come quando si faceva la foto di classe a scuola ve la ricordate la foto di classe la consapevolezza che stai andando a fare una cosa che poi rimane ti fa prendere quella accortezza in più per cui dici ma sì dai mettiamo metto la camicia quella bella con i gemelli buoni mi metto la giacca quella bella quella con con la spallina imbottita che mi fa un pochino più questo sono sono due cavolate sono veramente due cavolate ma ti fanno tutta la differenza del mondo perché ci hai pensato ti sei sistemato un attimino non sei venuto con la barba di una settimana non sei venuto con vabbè il brufolo quello è legittimo se c'hai il brufolo è quello te lo levo perché quello assolutamente però non mi vieni con la barba di una settimana e poi mi dici senti me la togli tu dopo quello è veramente insostenibile e a questo punto visto che io so che la situazione è così credo a questo punto che sia compito mio quello di segnalare queste cose al cliente perché il cliente non lo fa perché è pigro perché è ignorante perché altro da fare tutto quello che vuoi ma non lo fa e quindi a questo punto e questo è il punto interessante però di questo mio video questo è il valore aggiunto del nostro lavoro del mio lavoro in questo caso il mio valore aggiunto è che io ti faccio questa consulenza prima non arrivo lì a fare pum 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 quello lo sa fare chiunque per quello va bene anche il cugino con 4g il punto è che quando chiami un professionista bravo non devo per forza essere io potrebbe essere uno di voi che mi state guardando nel momento in cui chiamano qualcuno che vuole essere un bravo professionista questo è un discorso da fare al cliente il cliente lo apprezzerà perché dirà cavolo si ma rotto le scatole però poi ma come si sono messi tutti quanti in riga sono venuti tutti pettinati cosa che di solito non fanno si sono messi il vestito buono cosa che di solito non fanno abbiamo delle belle foto cosa che la volta scorsa non era stata possibile perché poi tenete conto che nelle aziende spesso e volentieri tu parli con una persona gli altri non lo sanno che c'è lo shooting perché c'è quello che dice no io vengo male c'è quella che dice no io sono grassa non mi fotografare quindi siccome fanno sempre storie spesso non gli viene nemmeno detto lo scoprono quel giorno lì che si facevano le foto e questo è un problema perché quindi ci hanno i capelli sfatti e la barba di una settimana quindi è molto importante che siamo noi a dirla questa cosa le nostre foto saranno più belle i nostri clienti si vedranno meglio perché ci hanno lavorato un minimo si sono quantomeno guardati allo specchio e si sono resi conto a casa loro di non essere Brad Pitt il problema è quando arrivano in studio con l'aspettativa di essere Brad Pitt in foto dico Brad Pitt perché io sono maschio però vale lo stesso discorso per una qualsiasi altra attrice influencer cantante domatrice di tigri qualunque cosa vogliamo il punto è proprio la consapevolezza guardarsi allo specchio rendersi conto che il materiale è quello fare pace con lo specchio dopo di che cominciare a lavorare andare magari in palestra andare magari a sistemarsi i capelli sistemarsi la barba fare qualcosa per la pelle mangiare più sano mangiare solo frutta e verdura invece di riempirsi di cotechino la settimana prima dello shooting può fare magie sono tutte piccole cose poi ovviamente io non vado a dare consigli di nutrizionismo perché non è il mio campo però insomma fare qualcosa qualcosa qualsiasi cosa in previsione dello shooting secondo me dà un grosso grosso vantaggio perché nel momento in cui andiamo a scattare le persone avranno già fatto pace con il loro aspetto e quindi sapranno che non possono aspettarsi di essere Brad Pitt o Angelina Jolie in foto sapranno di essere loro stessi quella stessa brutta faccia che hanno visto allo specchio per tutta la settimana precedente però sapranno anche di averci lavorato di essersi fatti i capelli e di essersi messi nell'unica posizione in cui non si fanno assolutamente schifo un piccolo consiglio bonus ulteriore è quello ovviamente di realizzare diverse foto per ciascuno perché questo assolutamente ci sta per cui molti potrebbero non aver capito qual è il loro profilo ideale potrebbero averne più di uno per cui per questo motivo io di solito faccio fare a tutti quanti una foto frontale foto tessera bruttissima e i due profili in maniera tale che ognuno possa scegliere la sua foto dopo anche il semplice fatto di vedere che c'è questa attenzione di solito ha il risultato di metterli un pochettino più a loro agio bonus tip ulteriore questa è una cosa che ha degli ottimi risultati un conto è mettersi lì così impalati con una scopa nel sedere e fare tre foto e poi andare fuori dalle scatole e un altro conto è avere almeno un minimo di interazione con la persona che stiamo fotografando è difficile è difficile perché magari come è capitato a me magari sono 500 che devono venire lì a farsi la foto ma se riusciamo a scambiare due parole in croce con tutti quanti prima nel momento in cui c'è l'avvicendamento quindi nel momento in cui quello che ha finito se ne va e sale il prossimo riusciamo a scambiare almeno due parole e magari a non dico buttare lì un complimento forzato però insomma far percepire alla persona fotografata che va bene quindi far percepire magari che ah dico vedo che hai scelto molto bene i gioielli da abbinare per la foto è ottima cosa mi piacciono molto oppure ottimo vestito bel taglio ne ho uno anch'io a casa cose così bisogna cercare di non suonare finti perché lì è un attimo cadere in questa cosa però se lo si fa con con il giusto mood con il giusto tono di voce questo può aiutare a distendere e soprattutto si può provare poi lì dipende anche dai soggetti ma si può provare a realizzare delle foto un pochino spontanee questa è una cosa che mi hanno insegnato dei clienti in realtà indirettamente perché non mi hanno detto devi fare così professionalmente però mi hanno fatto capire con delle richieste che si piacevano di più in fotografie in cui erano naturali piuttosto che impalati e quindi abbiamo fatto delle prove abbiamo fatto delle prove con in particolare erano due fanciulle e un fanciullo ovviamente alle fanciulle è venuto molto semplice il fanciullo invece è rimasto impalato anche nelle foto in cui doveva essere spontaneo ma questo è normalissimo infatti su questo frangente della spontaneità vi segnalo anche che uomini e donne sono profondamente diversi quando vado a fare ritratti di questo tipo le donne sorridono sempre e comunque tendono a piacersi di più nelle foto in cui sorridono a piacersi di più a loro e a piacere di più anche a osservatori esterni mentre gli uomini tendono a piacersi sempre e solo quando sono seri mentre le ragazze gli dicono che vengono benissimo anche quando sorridono ma gli uomini si piacciono sempre e solo seri non c'è niente da fare ovviamente dipende da caso a caso ma l'importante è che non dobbiamo forzare una persona a fare una cosa dove non si sente a proprio agio quindi se una persona vuole sorridere e si piace di più sorridi se una persona non vuole sorridere non si piace col sorriso stai serio non bisogna mai forzare le persone perché per andare verso la spontaneità bisogna anche andare incontro a quelle che sono le caratteristiche personali di ciascuno e andargli incontro significa accettare che magari non si piacciono col sorriso o che magari non si piacciono da seri bene amici devo dire che giunti verso il termine di questo video avendo di fronte a me l'anteprima del mio faccione comincio anch'io a fare pace col mio aspetto e quasi sono contento di non essere Brad Pitt perché questo mi dà la possibilità di essere qui e fare un contenuto per voi per aiutarvi a migliorare i vostri ritratti con persone che non si piacciono in fotografia vi ricordo di seguire il canale se avete imparato qualcosa di utile lasciate anche un like a questo video così mi date una grossa mano con l'algoritmo fatemi sapere nei commenti qual è la vostra esperienza se fate spesso fotografia di ritratto se vi capita spesso di fotografare persone che non si piacciono in foto video e signori io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao